La piccola Treia, in provincia di Macerata, ospita la terza edizione della Borsa del Turismo del Centro Italia, spalmata su due weekend per la massima promozione e valorizzazione di Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo, da queste regioni l'acronimo MULA. L'evento di quest'anno gode del patrocinio e del sostegno del comune di Treia e della regione Marche. La progettualità originaria era stata pensata per ridare ossigeno alle zone colpite dal terremoto. Oggi trova una rinnovata e grande attualità, vista la necessità di una ripresa post-pandemica imperante. È quindi un'occasione importante per fare sistema e capire assieme agli operatori la giusta via da intraprendere per creare nuove opportunità di ripresa. Le attività vedono il 15, 16 e 17 ottobre, nel primo weekend, la stampa nazionale destra in press tour per poter scoprire Treia e, più in generale, tutte le aree che appartengono al progetto. È un momento importante per far conoscere le Marche e l'area del sisma, dai borghi ai centri più grandi, fissando il focus sul turismo esperenziale, cammini bike, sull'artigianato, l'enogastronomia, per cui questi luoghi hanno una naturale predisposizione, spiega Federico Scaramucci, presidente di Inside Marche Live, l'associazione dei DMC e fornitori di servizi marchigiani, che promuove l'iniziativa che rappresenta oggi una trentina di aziende nella regione. Mostrare un territorio, farne parlare, poterlo scoprire, rientra nelle nostre attività ed è fondamentale per far conoscere le nostre Marche. Dopo quasi due anni tra lockdown e pandemia, il periodo è stato molto difficile per il nostro settore, per il settore turistico e abbiamo voluto enfatizzare anche con questo suffisso live la nostra attività, ovvero quella di tour operator dell'Incoming, che sono ancora vivi, forti e cercano di dare una mano a promuovere il territorio e a lavorare per creare delle nuove opportunità di occupazione. Con questa iniziativa, la Borsa del Turismo del Centro Italia, che si svolgerà appunto in questi due weekend, noi vogliamo cercare di offrire delle opportunità sia a giornalisti di testate di settore, di conoscere questi nostri luoghi, queste nostre terre molto belle, ma ancora che devono farsi conoscere ad un pubblico sia italiano che anche internazionale. Poi abbiamo organizzato anche un educational per i tour operator italiani ed esteri, che avranno l'opportunità appunto di confrontarsi con le strutture recettive, con gli operatori del nostro territorio, che appunto hanno il prodotto, prodotti interessanti, diversi, variegati e che possono essere interessanti per aumentare le presenze turistiche, che è quello che poi fondamentalmente è il nostro obiettivo principale, perché più aumentano le presenze turistiche e più occasioni di occupazione e di nuovo sviluppo economico ci sono nel nostro territorio. Quali prospettive, quali sinergie, quali progetti? Beh, certamente questo format si prefigge soprattutto di valorizzare il turismo delle aree interne, delle aree interne di queste quattro regioni che sono tradizionalmente le aree appenniniche. queste nostre montagne, queste nostre colline sono bellissime, offrono al turista certamente un paesaggio unico, ma oggi cerchiamo di mettere dentro altri valori, non è sufficiente avere il paesaggio, è il nostro obiettivo quello di sviluppare sempre più i servizi, quello di sviluppare anche nuove attrazioni che possano coinvolgere soprattutto un turista responsabile, un turista che cerca emozioni, che cerca qualità, che cerca enogastronomia di qualità e in più stiamo rispondendo a questo bisogno che la pandemia ci ha generato, che è quello di stare quanto più possibile all'aria aperta, quindi il turismo outdoor, il turismo del cicloturismo, i cammini.